Immagino che voglia saperne di più davvero, saperne di più su questo rapporto, che utilizzo in base alla risonanza informativa con un database di file ambientali e non è una misura fisica di elementi o fattori che influenzano il corpo o il deposito sui capelli. Come tale non dovrebbe essere possibile vederlo in diagnostica, non di natura medica. Il suo confronto indica la rilevanza di un'inferenza ambientale basata su un valore numerico generato. Questo valore non ha scala o linea di base, ma riflette la risposta individuale all'inferenza che può essere diversa per ogni singola persona. I dati sono visualizzati nei grafici e nelle tabelle dei report ed è classificato per facilitare la comprensione e l'utilizzo di tali informazioni. La tabella di riepilogo consente di valutare rapidamente le questioni chiave e identificare l'area principale di attenzione. Quelli che hanno minore rilevanza sono avvisi contrassegnati da un livello di rilevanza inferiore indicato da considerazioni. Gli oggetti con risonanza ad alto utilizzo che influenzano maggiormente la persona sono le priorità di Marcos. Con una P, la dimensione di un segmento indica sovranità o rilevanza per la persona in relazione ad altri elementi nella stessa tabella. Questo modo di visualizzare i dati in rapporto ad altri dati è più olistico. Esiste un elenco di restrizioni alimentari di 90 giorni che non sono sulla scala delle allergie, ma sulla scala della sensibilità. Questi sono alimenti che riducono l'efficienza complessiva di questo sistema. Per ogni elemento indicato riceveranno elenchi raccomandati di alimenti che possono essere aggiunti alla dieta. Questi alimenti sono fonti informative che consentiranno all'organismo di operare in modo più efficiente e aiuteranno con un'espressione genica ottimale attraverso l'epigenetica.